Ecco, l'allenamento oggi è lunedì, primo giorno della settimana. Ci troviamo nella struttura polivalente al coperto dell'impianto sportivo di Via Olimpia, di Cerserpentano. Oggi si allenano i ragazzi dei primi calci, no, piccoli amici, mi correggo, di mister Ucci Antonello e Matteo Di Jelo. Sono i più piccolini, quelli che pagano 5-6 anni. Mi guardo sotto gli ordini, sono un po' difficili da controllare perché sono i superanti per la loro età, giustamente. Ancora non accettano le regole, ma pian piano, con la bravura dei due mister, i ragazzi apprenderanno le prime nozioni del calcio, i primi approcci con il pallone. Sento più piccoli i ragazzini stanno al coperto, anche se fuori non fa tanto freddo, se il sole, qualche nuvola, la temperatura è ancora accettabile. I ragazzini si divertono, ecco la bella struttura. Questo è l'accesso per gli spogliatoi. Abbiamo anche un bellissimo manto erboso che oggi sta a riposo, meglio così, con la pioggerella di ieri. Il campo sta riprendendo un po' vivacità, l'erbetta sta crescendo, i lavori di circa dieci giorni fa di concimazione sta dando i suoi frutti. Abbiamo allestito anche una bacheca di informazioni, stiamo cercando di dare il miglior look a questa bella struttura. Qua ancora pende la locandina pubblicitaria della scuola calcio. Ecco proprio riprendiamo a giocare che c'è il doppio significato, amo giocare. Rientriamo nella struttura polivalente al coperto. Ecco si sente già da qua le grida dei ragazzini, dei pargoletti. Ecco il mister chiama a raccolta i suoi ragazzi. Bravi ragazzi, bravi. Ecco seguite il mister. C'è anche Luca, Luca dove sta? Luca?